e allora ragazzi intanto buonasera a tutti quanti una buona serata per tutti quanti da parte mia voglio dire una cosa molto 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 importante dice qual è questa cosa importante sta girando voce su facebook che praticamente presto diventerò papà che io presto diventerò papà ora dico io voglio sapere ma queste cose le sognate la notte ditemi se queste cose le sognate la notte che io posso pure anche capirvi e compatirvi arrivo a casa stamattina dopo un mese che non vedo la mia mamma e mi dice auguri mi fai nonna dico io ragazzi ma la vogliamo smettere la vogliamo finire dico la vogliamo smettere dico io perché dite queste queste cazzate mettete queste cazzate in giro io non parlo con la gente che giustamente si informa domanda perché la gente ovviamente è normale che vede scritto su facebook quindi la gente anche un po ignorante e non capisce che non sono profili miei e allora può anche porsi la domanda dice ma ma veramente diventerà papà ma ragazzi dico parlo con chi fa questi profili questi video inventa cose ma sei veramente un coglione ma che cosa pensi di fare ma che cosa credi che facendo queste cose riesce a fare qualcosa comando io questo è mio sembra la stessa storia quindi non dico non inventate niente di questo di questo genere perché siete solamente dei cafoni siete dei cafoni